Sì, 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 ho ribassostinato quello di Bitcoin in questi giorni che dall'approvazione del TF ha iniziato una gamba ribassista, uno swing ribassista importante e che soprattutto non si vuole fermare ed è arrivato ad un livello anche chiave importantissimo di supporto sotto il quale c'è un punto che può essere raggiunto con estrema facilità e anche causando un flash crash. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi facciamo il Bitcoin Monday, che cosa sta capitando nei mercati cripto? C'è un po' di confusione anche da un punto di vista ciclico, l'approvazione del TF non ha generato nessuna fase di pump, bensì ha generato un sell on news dovuto a problemi di natura tecnica che non bastano però a giustificare questo sell off perché in realtà da un punto di vista fondamentale Bitcoin sostanzialmente non è crollato, bensì è andato a migliorare, lo guardiamo oggi, ma da un punto di vista tecnico però questa cosa non ha portato alcun beneficio, tant'è vero che il ribasso c'è. Questo proprio ancora una volta dimostrare in maniera estremamente lampante, se ancora non fosse chiaro, che le notizie di natura fondamentale hanno impatto, non hanno nessun impatto nello short term, cioè nel breve periodo, hanno impatto nel lungo tempo e tra le altre cose potrebbe volerci anche tanto di questo lungo tempo. Però in realtà nel video di oggi andiamo a fare un po' il quadro della situazione, vi faccio vedere due news importanti e una questione, ragioniamo su una questione e poi andiamo a fare un giochino, sì perché io volevo fare questo giochino, volevo fare un altro tipo di video, però ho detto poi questo non lo posso fare tra un po' di tempo, quindi alla fine del video andiamo a fare una cosa. È possibile andare a capire fin quanto può essere spinta questa fase discendente, se siamo arrivati o non siamo arrivati, se stiamo toccando il fondo di questo piccolo periodo short term post ETF, c'è un'analisi che noi possiamo fare e la faremo, e c'è un dato statistico oggettivo dato dalle serie storiche ovviamente, che possiamo andare a calcolare e questo dato ci dà un target, un valore di questo movimento ribassista. Lo facciamo nel video di oggi, ma prima di andare avanti ragazzi, ovviamente io vi chiedo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando lancio moneta, ecco c'è e la moneta aveva ragione l'altro giorno, però ha dato buon risultato oggi, quindi speriamo si riprende perché aveva ragione perché indicava ribasso e quindi ha avuto ragione l'altra volta. Allora ragazzi, io direi di partire intanto da questa news che potrebbe essere interessante per molti, cioè la questione che FTX ha venduto circa un miliardo di dollari dell'ETF di Grayscale, perché sapete ormai che c'è un deflusso costante e continuo dall'ETF di Grayscale, per i motivi di cui vi ho già parlato in un video precedente, vi ho spiegato che c'erano una serie di motivi, tra cui le fee alte, il fatto che molti avevano una sovra approfitto e quindi volevano liquidare le posizioni, è una degli ETF più grossi e quindi un po' si ripartisce rispetto agli altri e poi in generale c'erano anche altri retroscene, tra cui anche questo, cioè FTX possedeva gran parte, una buona parte dei suoi ultimi averi nell'ETF di Grayscale e sembrerebbe proprio aver liquidato queste partecipazioni. Abbiamo pubblicato questo articolo nel nostro blog, ragazzi mi raccomando seguitelo dal link Telegram, trovate tutte le notizie che escono in tempo reale e tutta la giornata è scaglionata con una serie di notizie estremamente importanti, quelle che reputiamo le migliori, perché poi le notizie alcune non servono a niente, altre invece hanno un grande impatto, vi lascio il link in descrizione del canale Telegram gratuito dove trovate tutti gli articoli del blog pubblicati in maniera istantanea. Allora, anche qui c'è la questione legata al fallimento, tutto insomma l'ambaradam che riguarda la questione di FTX che sembrerebbe poter aver causato una parte di questo ribasso. Io sono... la notizia è stata riportata in maniera corretta, ragazzi, perché è anche riportata da altre testate giornalistiche, però in linea di massima io non sono convinto che un ribasso di questo tipo di Bitcoin sia imputabile solo e esclusivamente alla questione del sell-off da parte di Grayscale, perché non basta a spiegare questo tipo di movimento. È probabile che sia in corso una questione tecnica e soprattutto a livello di riflessione emotiva che ha molto più impatto rispetto a queste news, lo so, magari a volte sono un pochettino non commerciale quando vi dico cose che effettivamente magari non sono vendibili, tra virgolette, come quello che volete sentirvi dire. Però, ragazzi, io vi ho sempre parlato molto chiaro sulle cose e anche detto la realtà su tanti ambiti per esperienze, insomma, ventennale, eccetera, ma anche per il fatto che mi piace dire le cose come stanno. È molto più probabile che questo movimento di Bitcoin sia generato da una questione emotiva, da un sell-on-news emotivo e soprattutto da comportamenti di analisi tecnica, ciclica, piuttosto che legato ad analisi fondamentali. Poi, voi non ci vorrete credere, qualcuno di voi non ci vorrà credere, fatto sta che finora è sempre stato così questo tipo di discorso. Tant'è vero che a livello di analisi fondamentale pesa sempre di meno questo tipo di dato, soprattutto nei movimenti di breve e medio periodo. Nei movimenti di lungo periodo ha impatto, però è anche vero che i movimenti di lungo periodo non sono operativi, quindi non è che possiamo operare guardando il lungo periodo. Questa cosa è un errore grossolano di chi magari manca anche di esperienza in quest'ambito, perché guardare solo il lungo periodo, ragazzi, lo potete fare se siete Warren Buffett, avete miliardi di dollari, milioni di dollari, allora a quel punto non vi importa perdere il 50% perché non vi cambia la vita e attendere poi il lungo periodo. Altrimenti, se non siete pamperon de paperoni, lavorare basandovi solo sul lungo periodo potrebbe essere molto più rischioso di quello che pensate. Ovviamente dipende, chiaramente, ognuno a livello personale su tante cose. Quindi ci sta la logica di considerare la professione ETF una super notizia che ha un impatto enorme, anche perché i dati sono tutti positivi, e ora ve li faccio vedere. Però c'è anche da ragionare che nel breve e medio periodo, se noi siamo legati ad una struttura ciclica e tecnica che tende al ribasso, difficilmente questi tipi di notizie avranno impatto. E così è stato anche questa volta, ragazzi. Si è andato ad attendere, diciamo, questo dato, eccetera. Perché vi dico che non ha senso la questione della vendita di Crescale più di tanto? Perché intanto è attesa dal mercato. Tra le altre cose, comunque assorbita dagli altri ETF in buona parte, e intanto è vero che i total net asset sugli ETF di Bitcoin sono aumentati, anche se leggermente, per esempio, nella 19, la penultima giornata, insomma l'ultimo giorno aperto, che era venerdì, erano aumentati i 42 milioni, che praticamente è il nulla. Ve lo ripeto, ragazzi. 42 milioni di dollari a muovere questo tipo di mercati sono il nulla. Quindi non vi pensate che una cosa del genere, valori di questo tipo, abbiano senso. È come la polvere che trovate su una scrivania. Cioè, questo è il senso di questa cosa. Per avere un impatto significativo, questi tipi di dati li dovete analizzare in termini di billion, non di million. Quindi qui dobbiamo avere un billion, due billion che aumentano al giorno, allora senso ce l'ha da un punto di vista di pressione e di acquisto. Qui il dato vero di questo tipo di informazione è solo uno. Non si muove niente. Da una parte entra, dall'altra esce. È stabile, sostanzialmente così. Però mentre i flussi e quindi l'asset under management, i bitcoin, sono stabili, leggermente crescenti, non sono stabili i prezzi. Quindi non c'è stata una correlazione da questo punto di vista. Tra le altre cose è possibile anche che questa cosa sia dovuta al patto. Chi è? Griskay magari vende un po' come gli gira, mentre gli altri ETF comprano OTC e quindi magari a prezzi determinati e non incidono sul valore di mercato. Questo è possibile, ma dovremmo avere tutti i dati prima di dire un'affermazione del genere. È un'ipotesi che possiamo ragionare, che possiamo ragionarci insieme su questa cosa, però non abbiamo dati oggettivi. Cioè io non ho i dati per vedere Griskay come sta vendendo gli ETF, e quindi non posso dirvi che questa cosa è sicura. Però può essere probabile anche questo discorso. Cioè loro magari vendono un pochettino influenzando il prezzo di mercato. Chi acquista acquistando OTC da Coinbase, in questo caso magari lo fa senza l'influenza del prezzo di mercato. E questa cosa, badate bene, gli sta bene a chi sta comprando in questo momento. Perché dovete pure capire che se io voglio comprare billion di bitcoin in dollari, non voglio che il prezzo salga ragazzi, ok? Quindi tutto questo ragionamento non fa una piega. Cioè il fatto che chi vende, vende male perché nessuno glielo vuole comprare, se non ha il prezzo basso. E chi compra dice io compro ma con calma e ti faccio da market maker praticamente down, però il prezzo me lo scendi perché io non te li compro ai massimi. Insomma, il giochino delle parti sembrerebbe essere questo in questo momento. Ora, la questione di Grayscale è finita? No ragazzi, non è finita. Perché? Perché c'è ancora una differenza importante anche da un punto di vista di asset under management rispetto agli altri TF che intanto vi dico già che BlackRock e Fidelity stanno andando molto bene. Hanno superato il billion entrambi. C'è molta richiesta di questi ETF. Secondo me qui il raggiungimento dei 5 billion sarà dietro l'angolo e lo faremo in pochissimo tempo. Anche questi non stanno andando maluccio. Soprattutto i primi poi è ovvio non è che tutti gli ETF possono andare strabene perché poi la liquidità si concentrerà in quelli più liquidi che in questo caso magari sono quelli che hanno anche commissioni più accettabili e se lo possono permettere. Ovviamente ragazzi, le commissioni più accettabili per quanto riguarda il TER degli ETF sono quelli di BlackRock, di Fidelity, Bitwise e ARK. Questi qui sono i più accettabili. Poi anche qui abbiamo lo stessa percentuale di BlackRock, però in realtà questo livello di BlackRock non è così perché c'è lo sconto fino ai primi 5 billion, quindi è di meno. Per questo lo vedete in questo momento perché non è il livello di 0.25, è scontato fino al raggiungimento mi pare dei 5 billion. Allora, questi 22 billion che ha Grayscale devono ancora spalmarsi qui sotto ragazzi. Secondo me il raggiungimento di Grayscale tra i 10 e i 13, 12 è accettabile. Questo significa che abbiamo ancora 10 billion da far muovere ragazzi. Sono tanti, ci vogliono un po' di giorni, sono tanti. Un po' di effetto negativo potremmo averlo per un medio periodo. Questo significa 1-2 mesi ragazzi. Questo è concettualmente la questione. Ora, da un punto di vista di analisi fondamentale, se dovessimo ragionare dovremmo ragionare in questo modo. Da un punto di vista di analisi tecnica invece, che cosa ci stanno dicendo i grafici? E poi subito a fare la previsione che vi ho detto prima, calcolata in base a serie storiche e statistiche sul livello di ribasso attuale dove può arrivare, perché c'è un'area di prezzo ed è ben definita ed è anche abbastanza chiara. Quindi io non volevo fare questo video oggi, ma ho detto lo faccio oggi o magari arriviamo domani o dopodomani a quest'area di prezzo. Quindi vi serve il video in questa giornata, quindi lo facciamo oggi in pratica. Allora, vi faccio vedere la struttura intanto tecnica di questa fase. Da un punto di vista ciclico ho pulito il grafico, perché ci sono una serie di difficoltà a comprendere determinate questioni. Allora, se dovessi andare a ritroso, io qui direi in maniera molto semplice che siamo in un ciclo mensile che è già virato al ribasso. Quindi è tendenzialmente un ciclo che sta facendo un ciclo ribassista. Vi suona un po' strano per una serie di motivi. Intanto la posizione ciclica del massimo spostata verso la fine del ciclo non è mai strana, è molto strana, di solito non è così. L'unica alternativa sarebbe fare iniziare un ciclo mensile di bitcoin dal 29 in questo caso e quindi portarlo a spingere verso il basso fino alla fine del mese di gennaio. Ma anche volendo, facendo in questo modo, avremo in ogni caso comunque un ciclo ribassista. Come lo giriamo e lo voltiamo, il ciclo mensile di bitcoin, se lo si vede o non lo si vede, perché in realtà è un po' mascherato da tutti questi zigzag del mercato, è comunque al ribasso. L'unica possibilità che abbiamo quindi di un recupero importante è che chiuda un ciclo mensile a breve. Questa cosa lo può fare solo se effettivamente siamo nell'ottica, vedete qui per esempio se è iniziato il ciclo mensile il 29 di dicembre e qui siamo al 22, dobbiamo continuare almeno fino al 30, quindi ci vuole un'altra settimana buona ragazzi. Se è iniziata su questo livello di minimo che è in pratica il minimo che è stato fatto qui l'11 di dicembre, siamo troppo oltre per una durata di un ciclo mensile da 42 giorni o chiudiamo oggi tipo massimo domani, oppure probabilmente qui abbiamo due mensili messi insieme, quindi una 65-70 giorni, ma attenzione già virati al ribasso, quindi sarebbe ancora peggio in realtà questa view perché avremmo 1, 2 e poi l'ultimo movimento che dovrebbe fare una cosa del genere. Questa view è quella che tecnicamente potrebbe essere la più accettabile da un punto di vista ciclico per una serie di motivi e anche per il movimento che il mercato ha fatto, perché è palese diciamo che da qui sembrerebbe iniziata una specie di struttura ciclica importante, poi chiusa magari in questa zona di una ventina di giorni e di solito appunto questi sono movimenti ternari. A livello ciclico solitamente sono così e fanno appunto questi cicli un po' più magari strutturati in questo modo. Ora probabilmente la fase centrale dovrebbe chiudere a giorni, questo potrebbe presupporre un eventuale rimbalzo del gatto morto entro i prossimi giorni per poi andare a concludere tutta questa fase. In sostanza avendo rotto il minimo di partenza di questa struttura ciclica o chiudiamo un ciclo superiore a quelli che stiamo visionando, quindi mensile trimestrale, oppure non c'è modo di riprendere un trend positivo. Bisognerà attendere, lo so che non è la news che volevate ascoltare però è così e questa questione sta avvenendo proprio in questi giorni con la fase ribassista soprattutto di questa fase. Ora vi faccio vedere un dettaglio, il minimo sui prezzi di Bitfinex dell'11 di dicembre è 40.198, il minimo di oggi è 40.337, ma in closed se doveste andare a chiudere potrebbe essere un minimo inferiore perché qui la close da fatta a 41.300 circa, qui adesso siamo a 40.500. Ora quindi, tirando le somme per essere precisi, primo, il minimo ancora non è stato breccato, mancherebbe poco. Punto numero due, la close è stata breccata ma ancora non ha chiuso, bisogna attendere la chiusura della giornata di oggi per vedere se chiude sotto i 41.300. Questo potrebbe lanciare nei prossimi giorni un piccolo rimbalzo, sarebbe più consono assistere alla break anche del minimo, quindi scendere sotto i 40.000 dollari. Se scende sotto i 40.000 dollari questo dubbio non c'è più, quindi o chiudiamo un ciclo mensile nell'immediato molto lungo di 45 giorni, 42 giorni, oppure ragazzi è un ciclo trimestrale già virato al ribasso con un mensile che era difficile da vedere già virato al ribasso. Di solito i cicli creati in questo modo sono ternari perché la metà, cioè 30 giorni circa, coincide con i massimi circa. Di solito quando fa una roba del genere è un ciclo ternario che può essere appunto strutturato con un minimo qui oppure c'è il minimo anche in questo shadow, fatta in questo modo, ma in sostanza l'idea è sempre quella. Cioè rotti 40.190, questo può solo scendere fino alla chiusura dell'intero movimento. E non c'è storia ragazzi, l'unica cosa che può fare è fare una flash crash, adesso vediamo, e poi perdere tempo magari, una roba del genere, poi riaggiornare i minimi e creare un nuovo ciclo. Questo è un atteggiamento che avete visto tante volte su Bitcoin, tenetelo a memoria, tenetelo in considerazione perché i prossimi giorni potrebbero essere effettivamente complessi. È nella giornata di oggi che si sta delineando di più questo scenario, manca ancora il breakout del minimo, ve lo sto dicendo adesso, vedete se lo fa nella giornata di oggi o domani, manca ancora il breakout della chiusura che deve chiudere sotto 41.000 e 3. Non sappiamo se lo fa oggi perché sto registrando in questo momento, non lo so. Ora, è possibile capire fin dove potrebbe spingersi questo tipo di movimento qualora venisse confermato? Ci sono delle serie storiche in termini di volatilità degli ultimi swing che possono portarci a ragionare su che livello potrebbe essere aggiunto da Bitcoin? Ci sono, li andiamo a vedere. Allora, intanto memorizzate questo tipo di ragionamento, ragazzi. Se siete arrivati fin qui e non mi avete lasciato il pollicione, lasciatemi i pollicioni perché, mi raccomando, insomma, ci siamo tutti dentro questa barca ed è fondamentale dare una mano. Allora, vi faccio comprendere un po' le logiche. Iniziamo da quelli che sono stati le strutture del post-pandemia, quindi andando a prendere solo i trend rialzisti di Bitcoin quando era al rialzo e non quando era in bear market perché lì non serve. E andiamo a calcolarci quello che è il range di prezzo delle strutture ribassiste. Facciamolo in maniera qualitativa senza avere numeri al dettaglio perché è irrilevante fare il dettaglio di numeri del genere. devono essere presi con le pinze come da statistica seria, ragazzi, cioè non a 21-21,5 ma intorno a 20. Questo è concettualmente perché stiamo parlando di mercati rumorosi e non di serie storiche pulite. Allora, qui vi parlo di questa struttura e qui abbiamo 22,40, 30 punti percentuali di swing al ribasso, correzioni in pratica. Prendiamo queste, sono tutte più piccole, prendiamo questa che era stata un po' più pronunciata, 27, ragazzi. Poi da qui entriamo in trend ribassista, quindi non le prendiamo in considerazione. Qui invece in trend ancora rialzista avevamo il 25, da qui in poi ritorniamo in trend ribassista e non ha più nessuna considerazione. Quindi qui abbiamo, ragazzi, 22, 30, 27, 24, quindi io direi intorno al 25% in media con punte anche di 30 qualora la volatilità fosse eccessiva. Qui abbiamo in pratica una struttura da 20, perché? Perché la volatilità si è andata a ridurre nel corso del tempo e qui una struttura negli ultimi swing di 22. Ora, questo l'avete già capito dove sto andando a parare e intorno al 22-23% che questo tipo di movimento ribassista potrebbe in effetti trovare la sua conclusione in termini di volatilità, che è uno degli indicatori più importanti del mercato e il più importante, senza ombra di dubbio, perché vi dimostra la struttura del mercato, ragazzi. Andiamoci a calcolare dove arriva questo famoso 20, eventualmente 22%, partendo dai massimi della questione di questo grafico qui. Allora ragazzi, qui siamo al 17, quasi 18%, se io volessi scendere intorno almeno il 22, direi che il punto di arrivo dovrebbero essere i 38.000 dollari, quindi 38.000 dollari con possibile estensione fino a 36,5. Quindi questo è quello che ci dà come informazione questa analisi. Adesso vado a togliere, se no ho tutte le ombre e poi vi sistemo di nuovo l'aria, così la mettiamo lì. Scusate ragazzi, questo non è il solito grafico che uso con voi, ma è un altro grafico, insomma, dove ho una serie di calcoli un po' da sistemare sempre e ogni volta, che ho fatto tutto su questo qui. Allora, in pratica qui abbiamo 30.000 come aria, 30.000, 38.000 scusate, eccolo qui, fino a 36.500. Questa zona potrebbe essere tranquillamente una zona di arrivo di questo movimento ribassista, che in base a dati di serie storiche e statistiche sui movimenti ribassisti crea più o meno questo tipo di ribasso. Al di là di questo ribasso è superati anche i 30 punti percentuali, che io ritengo in questo contesto molto eccessivi, i 30 punti, quindi secondo me è già eccessivo 25. Superati quei livelli, bisognerebbe ragionare su altri tipi di logica, c'è qualcosa che non sta andando bene, perciò lo vedremo con calma, ma ad oggi siamo a 17.5 punti di ritracciamento dai massimi, c'è spazio purtroppo per scendere ancora. Dove? 38, 36 e mezzo. Addirittura Mauro, sì, addirittura sì, perché i numeri sono questi e tra le altre cose il primo vero livello di supporto, se rompiamo quello attuale che è in questa zona, che è questo qui che state vedendo, dove oggi sta giocando sopra in maniera estremamente pericolosa, cioè i 40.500, in shadow 40.000 poi ovviamente devono essere confermati in chiusura della giornata, si crolla immediatamente a 38.200 perché non c'è nessun supporto fino a quel livello, quindi l'abbandono di questo livello di supporto sarebbe molto pericoloso per i mercati del crypto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se qualcuno di voi ha fatto altre analisi, condividete quello che pensate nei commenti, io vi ho dato un punto di vista, se ci arriva entro pochi giorni lo sapete, io spero sempre nella fase rialzista, avevo una posizione aperta su Ethereum che era andata bene fino a ieri, oggi probabilmente sarà chiusa in leggero stop, non sono in modo esposto su Bitcoin, non ci siamo più esposti dalla post ETF, siamo usciti e basta, anche in Academy ragazzi se faccio cose strane poi ve lo dico come sempre. Detto questo, buon inizio settimana e vediamo un po' che succede, ciao!